E questo argomento mi ricorda molto la matematica di altri tempi, ormai sono cambiate moltissime cose, anche i metodi di insegnamento di queste nuove generazioni. Però mi ricordo è di quel famoso pi greco 3,14 che proprio non mi entrava in testa perché poi si susseguivano tutte teorie e cose. Io poi a matematica non è che andavo tanto per la quale. Comunque, per chi non lo sapesse, il pi greco è una costante matematica che viene usata in geometria per definire il rapporto tra circonferenza e il suo diametro. 3,14, questo famoso numero che ci ha accompagnato per anni. Ebbene, stiamo parlando del pi greco e probabilmente queste dieci cose sul pi greco forse non le sai, ma adesso le saprai. Ecco le dieci particolarità. 1. Nel 1938 venne istituito il suo giorno di festa. Il Pi Day, il 14 marzo, grazie al fisico Larry Shaw e al matematico e musicista Jim Horton, che lo decisero davanti ad un bicchiere di birra. 2. Nel 2009 il congresso degli Stati Uniti ha istituito il National Pi Day come festa nazionale. 3. È conosciuto anche come costante di Archimede, il quale fu il primo circa 2500 anni fa a fare la stima precisa del pi greco. 4. Prima di Archimede ci provarono anche altri popoli a calcolarlo. Ai babilonesi risultava 3,125, agli egizi 3,1605 e per i cinesi corrispondeva semplicemente al 3. 5. Per festeggiarlo è tradizione che si preparino delle crostate, scelte apposta per la loro forma circolare. 6. Ha salvato una persona in carcere, ossia O. Ilunga Simpson, incriminato per l'omicidio della moglie nel 1994. Un agente dell'FBI non prese in considerazione il pi greco e sbagliò a calcolare l'area della goccia di sangue usata per tracciare il DNA dell'assassino. Il giudice invalidò la prova. 7. Senza di esso non ci sarebbero forni a microonde e lampade abbronzanti. 8. Ci sono diversi modi strani di festeggiarlo, come ad esempio le corse sulla distanza di 3,14 miglia, circa 5 chilometri. 9. È davvero dappertutto. Ad esempio corrisponde esattamente alla distanza fra l'alluce e l'ombelico, così come da quest'ultimo fino alla punta della testa. 10. Senza il pi greco non sarebbe possibile costruire gallerie e tunnel perfetti.